Il Paradisi delle Signore 9 e Anticipazioni, Marta contro suo padre Umberto. Da non perdere, Il Paradisi delle Signore 9, anteprima, resa dei conti tra Marta e suo padre Umberto. Tutti gli ultimi aggiornamenti. Grande attesa per la prossima stagione 9 della fiction Rai Il Paradisi delle Signore, che sarà riproposta su Rai 1 lunedì 9 settembre dalle 16 e 5 alle 17 circa. Questa popolare serie tv è stata confermata e sarà disponibile per la visione di nuovo all'inizio della nuova stagione televisiva autunnale. Orologio pomeridiano. Sempre il 9 settembre torna in prima serata il game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Nel frattempo troviamo alcune interessanti anticipazioni del Paradisi delle Signore 9. Quindi, la nuova stagione di Rai 1 inizierà alla grande. Gli eventi che circondano Marta e suo padre Umberto continuano. Cosa succederà tra i due qui? Tutto quello che devi sapere Il Paradisi delle Signore 9. Anteprima, resa dei conti tra Marta e suo padre Umberto. La nona stagione della serie Il Paradisi delle Signore ha presentato un'interessante anteprima delle vicende del protagonista. In particolare assistiamo al conflitto tra Marta e suo padre, il Cavaliere Commendatore Umberto Guarnieri. Dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, il giovane fotografo torna a Milano e progetta di lavorare presso la Galleria Milano Moda e collaborare con suo padre per fare crescere la sua attività. Tuttavia, nel corso di questa collaborazione, Marta scopre le passate malefatte di Umberto Guarnieri. In particolare apprese che suo padre era responsabile della truffa Offer, che causò danni a Marcello Barbieri e alla zia. La contessa Adelaide, alla quale la giovane fu sempre molto legata. Questa amara scoperta fa infuriare Marta e mette a repentaglio il suo rapporto con il padre. Dopo la fine della storia d'amore di Marta, già la scorsa stagione, il ritorno al Milan sarà molto complicato. Un altro personaggio che deve fare i conti con il suo passato è Ciro Paglisi. Viene svelato un segreto risalente a quando l'uomo viveva in Sicilia prima di trasferirsi a Milano. Non sappiamo ancora di cosa si tratta, ma i dettagli verranno svelati nella stagione 9 di Il Paradisi delle Signore. Sappiamo però che questo segreto causerà non pochi problemi a Ciro Paglisi, soprattutto con la moglie Concetta. Per scoprire nuovi sviluppi e dettagli sulle vicende dei protagonisti della popolare serie TV non resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi da lunedì 9 settembre. Alla fine non rimarrà più nulla e la tua curiosità sarà presto soddisfatta. Grazie a tutti.